Dopo tante esperienze televisive vi nascondo che l'emozione è davvero forte, attraverso uno dei momenti più difficili della mia vita e sicuramente il più difficile della mia vita professionale. Come tutti sapete, dopo oltre dieci anni di servizio per Bluestar TV sono stato licenziato. Non riesco neanche a trovare le parole per rivolgermi, per farvi capire la mia sofferenza, ma la sofferenza non è solo la mia, ma di una voce libera che non potrà più parlare. L'azienda Bluestar TV nel momento in cui mi ha licenziato ha eccepito una ragione formale. C'è stato l'anno scorso una procedura di mobilità, ci sono stati degli esuberi, una dipendente ha presentato ricorso, è stata reintegrata e quindi a norma di legge dovrebbe avvenire un turnover, potrebbe avvenire un turnover. Entra una dipendente e ne esce un altro, il malcapitato sarei io. Attenzione però, la normativa consente, dà la facoltà all'azienda di far entrare un dipendente e farne uscire un altro. Non ha dato l'obbligo all'azienda, il magistrato, di mandarmi via. Ha dato la facoltà, l'azienda evidentemente per sue ragioni ha deciso di licenziarmi. Mi opporrò in tutte le sedi legali alla vicenda, non finisce qui, col massimo rispetto per le scelte dell'azienda andrò avanti e perseguirò ogni via sotto tutti gli aspetti giuridici per tutelare la mia persona. Io vi ringrazio per l'affetto incontrastato che avete manifestato nei miei confronti. Forse non meritavo tanto, ma mi rendo conto che il cuore di Taranto, il cuore dei Tarantini è più grande, è capace veramente di offuscare, di offuscare quelle nubi dell'Ilva per le quali ho tanto, tanto combattuto, insieme a tante altre realtà, ambientaliste e non, movimenti civici, semplici cittadini. Di qui l'appello ad aderire compatti a questo sit-in, a questa manifestazione, una manifestazione che vuole essere di solidarietà nei miei confronti, ma una manifestazione che mira un bene maggiore, quello della libertà, libertà di stampa, libertà in ogni sua accezione. Con la mia uscita televisiva c'è poco da dire, al di là di quello che l'azienda formalmente sostiene, una voce libera della città si spegne, non me lo meritavo. Rivolgo un appello, ripeto, alle associazioni ambientaliste e non, ai movimenti civici, ai semplici cittadini, manifestiamo tutti insieme, compatti, superando eventuali divergenze di posizioni, uniamoci e combattiamo per una battaglia, una battaglia, ripeto, per il bene supremo, della libertà, libertà di stampa, libertà di vivere che ci viene conculcata. Ho sofferto quando Girolamo Archinà mi ha sottratto, mi ha strappato il microfono, ma questa volta, seppur dietro aspetti giuridici, questo microfono mi viene tolto di fatto, seppur secondo aspetti giuridici, lo ripeto, aspetti che io non condivido e che impugnerò, ma dobbiamo essere compatti, non voglio intenerire nessuno, ma pensate a quei poveri bambini di qualche anno, che hanno solo qualche, anche mesi di vita, che nascono con un tumore, che crescono con un tumore, pensate a chi non ha più un padre o una madre per il cancro, pensate a quei padri di famiglia che non hanno più i loro figli, pensate che nella vita bisogna combattere, bisogna denunciare, costi quel che costi, quello che la grande industria, la grande industria assassina ha provocato e continua a provocare, solo uniti possiamo vincere una battaglia di civiltà, una battaglia di vita. Al Sittin voglio abbracciarvi uno per uno e voglio dirvi grazie, ma questo grazie sarà più forte, sempre più forte, se i poteri forti, grazie alla nostra unione, alla nostra coesione, finalmente verranno spazzati. Mi viene in mente in questo caso la famosa canzone di Vasco Rossi, dannate nuvole, bene, forse le dannate nuvole mi hanno fatto soffrire, mi fanno soffrire in questo caso, mi hanno fatto morire tanta gente, riflettete, tutti insieme, a tutti quanti, tutti insieme, voglio dirvi grazie e voglio abbracciarvi, forse per l'ultima volta.